musica bello a tutti amici di youtube e benvenuti in un nuovo video di marco porcuno musica 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 il vostro video per strada in mezzo al nulla perché mi è arrivata da amazon una seconda action cam che registra fino a 4k a 30 fps in D-Pair qui userò comunque la configurazione a full hd 1080 a 60 fps ma fateste ganno degli fps quindi oggi faccio un semplice video dove provo due telecamere due telecamere, ho la mia solita piazzata sul serbatoio e la seconda sul codino il codone della moto se fosse stata una moto grande ma dato che la mia è una moto piccola il codino, voglio solo ribadire a tutti una cosa, non ho più voglia di scriverlo nei commenti 1. ho venduto l'ape parecchi anni fa, non posso più fare un board dell'ape non posso più fare video dove mostro le modifiche dell'ape in quanto anni e anni fa l'ho venduta 2. ho venduto anche la pit bike quindi mi dispiace vi dovete far abbassare il video della moto per il momento perché ho avuto dei problemini piccolini piccolini alla macchina e quindi non posso fare un board in macchina al momento questo vuol dire che a breve, comunque sia, dato che sto cercando di comprare la macchina arriveranno anche video sulla macchina nuova, quindi arriveranno vlog in macchina ignorantissimi un po' di guida sportiva molesta e altri video che comunque riguardano in sé la macchina quindi anche le modifiche estetiche, non estetiche, di prestazioni quindi spero che il video semplicemente test delle due videocamere sulla moto possa interessarvi sicuramente non manterrò sempre questa configurazione ma varierò un po' le inquadrature vedrò un po' di lavorare sopra alla composizione dei video quindi spero che vi piaccia, godetevi il video e BELLA! ciao! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti